Eravamo messi bene all'inizio con Roland, Dombrowski e io, poi vabbè il gruppo non ha lasciato molto spazio anche perché c'erano dei buoni corridori davanti e niente io ho aiutato Dombrowski sull'ultima salita, dopo c'era anche Formula un po' in difficoltà, l'ho aiutato anche lui. Che tappa è stata quella di oggi? Perché insomma tutti dicevano che poteva essere la tappa ideale per far saltare il banco. Ma è stata una tappa molto dura, fin dall'inizio è stata subito bargar, è stato veramente massacrante oggi. Domani potrebbe essere un'altra tappa nella quale ti rivedremo all'attacco? Ma pensiamo prima di riposare, ci pensiamo domani mattina.